LASERSCAN LASERSCAN è il dispositivo per la compensazione reale del tubo naturale e del twist. Quando la qualità geometrica del tubo è molto male, o quando una grande attività è necessaria, l'operatore può attivare la funzione LASERSCAN sulla interfaccia del tubo BioVision prima di iniziare il programma. LASERSCAN consista in sensori fronte e rear che possono scannare le parti delle tubi. Può essere usato per tutte le forme e le parti che possono essere processati per T130. Quando è attivato, l'accurazione del tubo di più o meno di 0.2 mm è sempre riuscita. Il tempo di scannare è solo 0.5 seconda, quindi l'impacto del tubo di scannare è molto alto. LASERSCAN